Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Sabato 26 aprile alle 16.30 all'Università di Teramo ci sarà l'opportunità di ascoltare un pezzo della storia della legalità italiana, arriva il Capitano Ultimo. Sì, assolutamente. Abbiamo pensato di organizzare questo evento con Capitano Ultimo perché lui ha giurato di servire non solo lo Stato ma anche il popolo e come popolo oggi come oggi non possiamo non includere anche il popolo straniero. E vogliamo portare una testimonianza di come immigrato non voglia dire criminale. Il valore dell'inclusione, il valore dell'inclusione si parte da Papa Francesco ma prima ancora anche da Papa Ratzinger, il valore dell'inclusione in una società che in realtà non è inclusiva ma sfrutta soprattutto anche chi arriva in stato di debolezza. Esattamente, dice benissimo perché noi spesso siamo abituati a pensare che chi ci sta accanto debba servirci per qualcosa. Invece noi dobbiamo comprendere sempre di più che chi ci sta accanto è un arricchimento. E spesso è in grado di fare ciò che noi non sappiamo fare. E oggi che abbiamo sempre di più bisogno di persone che contribuiscano al bene della società, il Capitano Ultimo in questo è una testimonianza importante. Secondo lei, per il Capitano Ultimo, che valore hanno gli avvocati? Credo che gli avvocati non possano non essere quello che sono. E cioè un anello di congiunzione essenziale fra la società, il vivere civile e la magistratura. Quindi questo ruolo essenziale è ineludibile tra l'altro perché non vi è un'altra figura professionale che possa svolgere questa funzione. Credo che sarà oggetto di grande rispetto da parte di un ausilio al magistratore inquirente fondamentale, quello è stato il Capitano Ultimo. Quindi l'avvocatura che non va vista mai come un elemento di intralcio all'attività inquirente o requirente è sempre invece un anello di utilità. Ma questo per la società in genere.